Siamo giunti a un punto stampa con Pietro De Leo, giornalista del Tempo. Pietro, buonasera. Grazie, ben trovati, buonasera a voi. Allora Pietro, io vorrei subito affrontare con te questo consiglio dei ministri che si è fatto a Crotone, dove la Meloni è stata molto contestata. Allora, se non faceva il consiglio dei ministri sarebbe stata contestata, l'ha fatta e contestata lo stesso. Cioè qui non si capisce uno come si deve comportare. Gli era stato rimproverato il fatto che non fosse andato immediatamente a Crotone. Ovviamente la sua agenda è strapiena, lo vediamo che schizza da una parte all'altra. Riesce ad organizzare un consiglio dei ministri lì e viene, allora, vabbè, quelli che hanno trattato i peluche, erano state le mamme, non lo so, di qualche bambino che è morto lì. Però questa aggressività io non la trovo giustificata. Tu che dici, Pietro? No, ma è vero, insomma, come fai sbagli, no? Questa è la regola di quando sei al governo, però in questo caso mi pare ci sia molta carica ideologica, peraltro controproducente, perché tutto il caos, il rumore, i decibel che stanno montando quelli della sinistra, i signori della sinistra, in realtà sembrano spostare l'attenzione da quella che è la gravità del problema, cioè i traffici di esseri umani, gli scafisti, la mafia dell'immigrazione clandestina. Beh, lì è la colpa, non è la colpa del governo se è successa la grande tragedia di Cutro, ma è colpa, lo ha detto, insomma, ha ricostruito piante dosi alla Camera molto bene la dinamica. Questi scafisti ad un certo punto hanno fatto una deviazione della traiettoria brusca e hanno incontrato una secca, cioè continuare a dare addosso al governo come se avesse chissà quale colpe, devia l'attenzione da quello che è il tema principale, cioè il crimine dei traffici di esseri umani. Quindi, insomma, tutto questo caos che sta facendo la sinistra non rende un buon servizio al dovere che c'è di affrontare questo dramma, un dovere che esiste anche per rispetto di chi parte e che finisce nelle maglie di questo crimine. Insomma, la stanno buttando veramente sull'ideologico e non va bene, ma non va bene per nessuno. Sentiamo le dichiarazioni di piante dosi, che anche lì è stata attaccata, poi direvano per quale motivo. Sentiamo cosa ha detto. Signor Presidente, onorevoli deputati, il governo ha immediatamente accolto l'invito del Parlamento a riferire in merito al naufragio di un'imbarcazione in legno che trasportava migranti avvenuto nelle prime ore del mattino del 26 febbraio scorso nel mare antistante la località steccato di Cutro in provincia di Crotone. Voglio prima di tutto rinnovare il cordoglio mio personale di tutto il governo per le vittime di quest'ennesimo tragico naufragio e la vicinanza alle loro famiglie e ai loro superstiti. Premesso che il bilancio non è ancora definitivo, gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano proprio oggi il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi superstiti 54 sono accolti nel locale centro di accoglienza richiedenti asilo che nel pomeriggio d'Irno saranno trasferiti nella struttura alberghiere che già ospita i loro parenti e altri 12 sono nel sistema SAI a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati. In particolare sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenni. Sono in corso le ricerche di un quarto scafista e non si escludono sviluppi nelle prossime ore. I sopravvissuti sono afghani, iraniani, pakistani, palestinesi, siriani e somali. Appresa la notizia del naufragio, mi sono immediatamente recato a Cutro per testimoniare a nome del governo il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti, nonché alle amministrazioni locali. Anche in questa sede desido rivolgere una parola di profonda gratitudine alla Calabria che da sempre accoglie con solidarietà e generosità i tanti migranti che sbarcano sulle sue coste e che affronta questa tragedia con compostezza e dignità non comuni. Dopo la tragedia di Crotone apprendiamo le raccapriccianti notizie di quanto costa la vita umana per questi mercanti di morte. 8 mila euro per 120 persone, ecco il guadagno di questi mafiosi, di questi mercanti che continuano nella loro azione. Ecco, questo non è più possibile, non dobbiamo più consentirlo e l'Italia da sola non può fare questo lavoro. Abbiamo bisogno di un intento comune da parte dell'Europa per fermare il mercato della morte. Ho fatto sempre chiarezza su ogni cosa, quello mi pare più che ovvio. Questo non significa che possiamo mettere sotto accusa chi salva regolarmente le vite, guardia di finanza, guardia costiera. Loro va il plauso, qualche errore si può sempre commettere. e pensiamo che non sia questo il caso dagli ultimi dati che arrivano, anzi non è arrivata nemmeno l'allerta da parte della stessa imbarcazione che tra l'altro fa una tratta completamente diversa rispetto al mare, quello che viene battuto dalle ONG. Per cui anche le polemiche su questa vicenda credo che siano solo sterili. Dobbiamo pensare a non fare morire la gente in mare. Le opposizioni ormai chiedono di dimettersi anche se uno dice ciao, quindi lascia il tempo che trono, fanno sorridere le opposizioni. L'abbiamo visto, continuiamo a vederlo, facciano il loro ruolo, ma almeno cercano di farlo con un po' di livello, almeno chiediamo questo. Il decreto ancora non è a nostra conoscenza, ovviamente se ne sta occupando il governo. Quello che apprendiamo è che si deve regolamentare, si basa sulla regolamentazione dei flussi. Sappiamo in Italia di quante persone abbiamo bisogno, ma soprattutto sappiamo quante persone in Italia possono vivere dignitosamente, perché questo è l'altro tema, evitare di farli morire e quando arrivano in Italia devono vivere dignitosamente, non in ghetti come spesso capita, con un'accoglienza fuori da ogni controllo voluta dai governi precedenti. Sarà concordato con la Lega? Assolutamente sì, è un decreto di maggioranza, quindi viene concordato con tutte le forze politiche. Hai sentito Pietro, agli scafisti fino a 30 anni di galera, vogliono cambiare le pene più inasprite e anche diciamo un conto, ci sono stati due morti, si è alzati cinque anni, tre morti, insomma inasprire ancora di più le pene. Però il problema è che questi scafisti, io non lo so se si freneranno tanto con l'inascrivento delle pene, perché lo sappiamo da più parti che quando partono questi barconi, questa gente ha pagato fiori di soldi per salire e quindi per loro è un business enorme. Sì sì, beh sicuramente è un business enorme. Aver inasprito le pene è sicuramente un deterrente normativo, cioè tu fai una legge che ti serva un po' a spaventare chi vuole commettere un reato, però serve anche un deterrente politico chiaro che è nella posizione di un'affermazione della volontà del governo di combattere la grande città e questo deve essere un filone che non deve mai essere abbandonato. Noi ricordiamo che nel momento in cui l'Italia ha avuto meno sbarchi e quindi anche meno morti, fu quello in cui al governo, al Ministero dell'Interno c'era Salvini, no? E Salvini poi si notò, al di là di tutti i contrasti che c'erano stati, che effettivamente partivano, la rotta del Mediterraneo centrale si era molto asciugata, perché c'era questa continua irradiazione di un messaggio, porti chiusi, la pacchia è finita, non partite, che aveva fatto presa, quindi serve anche un deterrente politico, questo probabilmente è un messaggio un po' da rafforzare da parte del governo, perché non è ancora arrivato forse a livello adeguato, però sicuramente l'aver inasprito le pene per gli scafisti è un primo passo, serve molto altro, poi c'è tutto il discorso che serve l'Europa, serve un'operazione di polizia internazionale, perché questa è veramente una mafia che si muove come una mafia, vanno addirittura, c'era uno studio anni fa, vanno addirittura nelle case di chi deve partire con dei dépliant, veramente è una cosa molto strutturata. Poi c'è anche un altro tipo di elemento che qui bisognerà poi capire come si concretizzerà, il decreto ieri fissa una cosa molto interessante, cioè che dà una preferenza nelle quote regolari a beneficio di quei paesi di partenza che dimostrano di mettere in campo delle iniziative mediatiche e politiche per dissuadere le persone dal partire. Ecco, io qui è un dato interessante, però bisogna capire poi come effettivamente lo fanno, perché questi sono paesi spesso con delle democrazie fragili, che oscurano, che non si riesce bene a capire come operano, ecco, lì poi quello è un fatto che andrà molto monitorato bene da parte dell'Italia, controllando che questi paesi veramente facciano quello che promettono. Certo, Antonio. Dal tonde Pietro, io sono andato a rivedere, c'è un video di Frontex che da qualche ora fa dà ragione al governo, da questo video si vince che non c'era nessuna criticità sulla barca che era stata abbistata, insomma, quindi insomma, in parte, come dire, è un piccolo riscatto da parte di piante dosi, no? Sì, sì, ma in realtà, questo è vero, però che Frontex non avesse segnalato alcun pericolo, alcuna criticità, era noto dall'inizio, cioè qui alla sinistra che ha fatto tutto questo caos. Adesso convive ancora di più, insomma, forse inchioda. Certo, ma avvalora un dato che già era noto all'inizio. Insomma, il dato qual era? Il dato iniziale da cui è partito tutto il dibattito sulla catena dei soccorsi che non è scattata. Frontex aveva mandato un aereo, cioè aveva un aereo che perlustrava la zona. Ha rilevato questa imbarcazione, questo caipo, che A, non aveva lanciato segnali, B, pareva, insomma, era in una condizione di navigabilità assolutamente normale, quindi non era in balia delle onde o in difficoltà. Non c'era criticità, come è stato detto. Sì, e quindi da lì in poi si è agito di conseguenza. Però la sinistra continua evidentemente, ha trovato il modo strumentale per attaccare il governo e continua a battere sul punto. Però ecco, questo video avvalora quello che era stato detto sin dall'inizio. Certo. Dall'Europa parte pure l'iniziativa di fare delle campagne di sensibilizzazione, dicendo non partite, non è così che non troverete l'Eden in quest'Italia, ma ci sono tanti problemi. Allora, io mi chiedo, no? Spendere dei soldi per fare questo tipo di battage informativo, ma per mandarlo dove? Cioè, in Africa, dove non c'hanno neanche il televisore, non hanno i telefonini, ma dove lo mandano? Eh, vedremo appunto. Questo è un altro tipo di problema che poi vedremo come faranno. Non so se attraverso delle associazioni che fanno cooperazione, che sono sul territorio, se faranno, appunto, se utilizzeranno per quello che c'è, la televisione, internet. Però ecco, noi dobbiamo capire che quello è un continente con 600 milioni di persone che non c'hanno neanche la luce e l'acqua. Voglio dire, vedremo come faranno. Ecco, poi si parla, Pietro, tanto di integrazione, no? Che queste persone, alcune riescono a integrarsi a lavorare. Però, un altro noto che andrebbe sciolto è quello di dare la possibilità a queste persone che lavorano di non avere, di non fare duemila passaggi quando dovrebbero avere rinnovato il loro permesso di lavoro. Perché adesso è veramente, si imbattono nella burocrazia più cupa. Macchinoso, farraginoso. Loro devono prendere avvocati, pagare avvocati per fare delle pratiche che sono difficili. Anche in questo senso ci andrebbero aiutati. Una volta che ti dimostra che stai in Italia, lavora, cerca di non dare fastidio a nessuno, perché chi delinqua deve pagare. Certo. E' giusto che sia così. Ma chi vuole lavorare? Fa magari lavori umili, che in Italia vogliono fare sempre di meno, o quasi nessuno, perché tutti vogliono avere il figlio laureato, il figlio che magari lavora in una struttura importante. Il fabbro, il falegname, l'idraulico, sono mestieri che tendono a scomparire. E loro invece li vogliono fare, o si adattano a farli. Non possono poi essere bloccati dalla prefettura ogni sei mesi, perché manca quello, manca quell'altro, per rinnovare questo serve quell'altro, e devono andare in ambasciata, e di qua, di là. Cioè questo modo farraginoso, di portare avanti le loro situazioni, poi dà adito anche a problematiche che queste persone quando non hanno più reddito, perché non hanno i permessi, e quindi chi li fa lavorare, poi non li fa lavorare più, che fanno, trovano le vie traverse. Cioè cerchiamo anche di snellire, no, la burocrazia in questo senso. Questo è assolutamente vero. Io però, insomma, ho l'illusione, e il sogno, che prima o poi quei lavori tornino a farli gli italiani. Ma lo dico, non con il principio dei lavori umili, con il principio di lavori tecnici, lavori pratici, lavori artigianali, che appunto spesso, proprio perché si è diffusa la cultura in cui ognuno deve fare una superstare in Italia, quei lavori non vengono più perseguiti. E poi abbiamo due milioni di giovani che non studiano, non lavorano, e non fanno apprendistato. Sicuramente c'è una voragine sociale che dobbiamo colmare con gli italiani e questo, insomma, ci porterebbe a chiedere, a restringere un po' i flussi. Perché è vero che chi arriva e ha voglia di lavorare è giusto che lavori ed è giusto che venga accolto. Però c'è anche un altro tipo di questione, che è una questione culturale. Spesso, insomma, chi arriva, anche onestamente, anche con tutta la buona volontà, però magari appartiene appartiene ad una cultura diversa dalla nostra, appartiene ad una confessione religiosa diversa dalla nostra che magari ha delle concezioni delle donne diverse dalle nostre e poi da lì cominciano i problemi, che ci sono i problemi comunque. Quindi ecco, bisogna cercare un po' di tenere tutto in equilibrio. Io continuo ad essere un tifoso dell'opzione per i rifugiati dei paesi terzi, ovviamente controllandoli, monitorando che non ci siano violenze, e monitorando che non ci siano violazioni dei diritti umani. Perché la soluzione non può essere anche nel caso dei rifugiati, facciamoli venire tutti in Europa e in Italia. Anche perché l'Italia, per esempio, non può diventare l'imbuto dell'Africa. Non abbiamo proprio la possibilità di contenere una mole così di popolazione. È un discorso che non è fattibile. Assolutamente. Ma noi abbiamo visto noi abbiamo visto il caso siriano in Germania nel 2015. Effettivamente scappavano da una guerra. Angela Merkel ne accolse tantissimi, mi pare furono un milione o giù di lì. Però dopo abbiamo avuto il capodanno di Colonia con le molestie diffuse alle ragazze tedesche, accoltellamenti. Insomma, ci sono stati dei problemi proprio perché poi dopo i primi giorni di euforia, di entusiasmo e di solidarietà l'integrazione non è facile. Certo, per dire quanto c'è costato proprio in termini di soldi ad Erdogan, no? Il passaggio per la Turchia, no? Cioè, queste cose poi quanto c'è costato perché poi lì era una corsa a rialzo proprio e quindi quel curioso è stato aperto però è stato ben retribuito Erdogan e la Turchia, insomma. E' sei miliardi, gli abbiamo dato sei miliardi, gli abbiamo dato la possibilità di invadere il mercato europeo di materie prime pensiamo alle nocciole turche che erano piene di aflatossine e lui essendo un mercante ci ha guadagnato perché poi ha la cultura del mercanteggiamento. Però, insomma, questo però ha tamponato in parte ha avuto il suo beneficio perché ha tamponato in parte quello che altrimenti sarebbe stato un esodo insostenibile. Insomma, è molto complicata la questione e più tempo passa adesso noi ci troviamo di fronte dopo il decreto di ieri per esempio sono continuati ad arrivare oggi mi pare ne sono sbarcati a centinaia ne abbiamo avuti 3.000 in tre giorni. è un'operazione in corso è un'ultima ora che io monitoro continuamente salvataggio per più di mille persone con la guardia costiera si muove anche la marina e altri migranti in arrivo sulla 18 che è la nave di salvataggio quella famosa insomma quindi insomma ma il problema il problema esiste e io mi faccio anche un'altra domanda allora noi sappiamo chi presidia a livello egemonico l'Africa sono paesi come la Russia e sono paesi come la Cina quindi insomma io rifletterei un po' su tutto quello che è il quadro internazionale le scelte che abbiamo fatto ed evidenti anzi eventuali e probabili volontà da parte di qualcuno di utilizzare i flussi migratori come arma contro di noi perché poi dobbiamo ricondurre un po' tutto al quadro generale noi sappiamo e Erdogan è un caso che spesso le dittature utilizzano i migranti come arma geopolitica non vorrei che anche questa volta insomma si delineasse un quadro di quel tipo Senti le vuoi fare due battute sulla mia Radio Cittadinanza che è diventato mia? Guarda vediamo vediamo perché è ancora tutto molto in divenire io in due battute da quello che ho visto perché siamo ancora a livello di anticipazione insomma il fatto che siano stati tagliati gli assegni è sicuramente un per gli abili al lavoro insomma è sicuramente un buon inizio perché era diventato concorrenziale con lo stipendio era il reddito di cittadinanza aveva spesso aveva avuto una funzione disincentivante nel cercare lavoro e quindi tagliare il beneficio è sicuramente un'iniziativa positiva vedo anche che c'è molta almeno dalle bozze che girano c'è molta importanza alla formazione che diventa obbligatoria per chi ha più di 16 anni nel caso in cui abbia adempiuto tutti gli obblighi scolastici e la formazione nella normativa del reddito era stata lasciata indietro vediamo vediamo quello che succede leggevo che però ci sono delle sperequazioni tra nord e sud derivanti dall'ise e si sta cercando di correggerle ancora un po' presto però insomma anche lì la sinistra diceva che il governo avrebbe lasciato i poveri da soli ma non è così non è così e sarebbe illogico che fosse così perché noi sappiamo bene che se tu togli un beneficio in maniera totale poi hai le tensioni sociali ci si sta lavorando vediamo quello che succede speriamo oltretutto di avere un coordinamento tra agenzie del lavoro e centri che sono privati e centri dell'impiego che sono pubblici per arrivare a questo benedetto incrocio tra domande e offerte che era completamente mancato in questi tre anni del reddito di cittadinanza sentiamo le affermazioni di Todi su questo argomento la giustiziananza va dato a chi ne ha reale necessità non è il Parlamento che lo decide poi sono gli organi sottostanti evidentemente che dovranno stabilire beh ci sono i servizi sociali ci sono i servizi sociali funzionano come dovrebbero funzionare ma allora si possa determinare in maniera concreta come voi dite devono funzionare lo togliamo a chi è in grado di lavorare a chi è in grado di lavorare è meglio che vada a lavorare ma in un paese dove la disoccupazione è al 51% e dove la struttura scusi dove la disoccupazione è al 51% la politica l'ho fatta sì ma i numeri non li conosci no no li conosco no e dove le strutture preposte a far incontrare domande e offerte sì e parliamo degli uffici promessori del lavoro funzionano come funzionano voi dite bisogna andare a lavorare allora dategli il lavoro guardi che il lavoro non è che si trova necessariamente attraverso l'ufficio provinciale del lavoro se uno no se uno ha voglia di lavorare se uno ha voglia di lavorare il lavoro lo trova se uno è in grado se uno è in grado e se non è in grado è un caso diverso il regio c'è diranza va dato a chi non è in grado allora il regio c'è diranza non a chi è in grado non a voglia ecco però la differenza che si è creata anche nella terminologia no Pietro prima erano disoccupati adesso diventano gli occupabili è strana questa differenzione non trovi? beh allora occupabili perché si differenziano dai non occupabili nel senso i non occupabili sono ad esempio i disabili chi ha problemi di inserimento chi ha che è oltre una certa soglia di età per cui non è più ricollocabile nel mondo del lavoro gli occupabili invece si rivolge a tutti coloro che sono teoricamente ricollocabili e collocabili nel mondo del lavoro quindi c'è questa differenza linguistica che che spiega che spiega queste diverse condizioni insomma io sentivo prima non so chi faceva la domanda a Tosi il 51% di disoccupati sono numeri in libertà perché i disoccupati in Italia sono molto meno come percentuale però ecco insomma io richiamerei anche sul numero che è in uno studio di Union Camere pubblicato qualche settimana fa per tutti quei lavori che hanno bisogno di bassa formazione o addirittura nessuna formazione cioè lavori che chiunque anche se non è formato può fare da domani il mismatch cioè la differenza tra i posti che vengono chiesti dalle imprese e quelli effettivamente occupati è cresciuta dal 19 al 34% il 19% era prima del reddito di cittadinanza nel 2019 il 34% nel 2022 quindi con tutto il reddito di cittadinanza quindi vuol dire che il reddito ha avuto una funzione disincentivante nel cercare lavoro anche per i lavori umili e questo è un dato su cui bisogna riflettere C'è sempre questa differenzazione tra nord e sud come avevi accennato prima no? Eh sì quella va corretta perché io leggevo che adesso un po' non vorrei andare sul tecnico però leggevo che questi nuovi parametri potrebbero penalizzare chi cerca lavoro al nord piuttosto che chi cerca lavoro al sud quindi lì adesso bisogna capire come agire credo che sia uno dei correttivi della bozza che è sul tavolo del governo La cifra però si è abbassata di tanto perché 375 euro per gli occupabili è veramente una cifra molto bassa 375 per gli occupabili 500 per i non occupabili più 280 per i non occupabili come bonus affitto bene vedremo l'epilogo di questa storia io per il momento ti saluto Pietro grazie per essere stato con noi per il condizionato stampa di Pietro De Leo giornalista del Tempo grazie infinita appuntamento a prossimo venerdì buona serata grazie grazie ciao Pietro allora finisce qui questa puntata di Italia città aperta ringrazio tutto il pubblico che ha avuto la pazienza di ascoltarci e seguirci fino adesso alla regia Manuel Mazzei il nostro Antonio Rabbia grazie grazie Roberta buonanotte poi Ludovica Iacovacci e Cinzia Sant'Angeli Roberta Feliziani vi saluto e vi dà appuntamento domani mattina sabato in diretta ancora dalle 14 alle 16 con dritti al punto tanti ospiti e tanti temi da affrontare buonanotte grazie a tutti 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 grazie a tutti